La sala uscita di Rossidone, la sudestrada va in finito, e bene senza quella desolazione, la mia affizione se ne andrà. Cento chilometri lontano da casa, guardando un occo di sperazione, il trattito scorre per l'acce e tutti tornano a casa, qualcuno da un'entrata sta a tappare su una compassione. Dopo mezz'ora si ferma un cristiano, è un pensionato, un tipo del cuore, di un passaggio ma come va via, e d'accordo a un'altezza un'indiettasse di guerra e di pace. E un ufficio sta tornando in campi nuovi, come si fa parlare con un'attenzione, sapevo e dico meglio quando c'è l'amore, il fatto è che non si lavora, insomma che conversa. C'è un ufficio sta tornando in campi nuovi, come si lavora, rimando in campi nuovi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.